La Virtustiana di Marcello Billeri è in semifilale playoff, coach complimenti, l'avventura ai playoff della sua Virtustiana prosegue dopo una bella sudata con Potenza. E' stata veramente difficile, il nostro organico non era al meglio con l'assenza di marcante e abbiamo recuperato per far giocare minuti preziosi sia David Cournot che Rino, anche se potevano solo camminare. Potenza è stata brava, un grande percentuale di tiro da lontano, da tre punti e ha saputo giocare con lo spirito giusto e quindi ci ha creato più problemi che non all'andata. Però ecco, credo che nei momenti difficili i nostri ragazzi hanno saputo reagire, hanno saputo mostrare il carattere che tante altre volte sono riusciti pure a mostrare e attraverso questo temperamento che spesso hanno mostrato è venuto fuori il buon risultato. Marcello, ma quanto cuore ha Tomasiello? Beh, direi che lui, il suo carattere è un trascinatore, è un grande proprio, questo lo sapete già da tanto tempo e l'ho scoperto questa stagione. E' un giocatore preziosissimo non soltanto per quello che fa da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio anche dell'esperienza, ma soprattutto dal cuore, dall'anima. E' un giocatore di livello assoluto, per questo credo, un giocatore da NBA per quanto riguarda il carattere, il cuore, l'anima, il temperamento, lo stimolo positivo sempre per i compagni. E' un giocatore eccezionale. Che impressioni hai per queste semifinali? La stagione di Siena era già buona con il secondo posto in regular season, ora con l'accesso alle semifinali la sensazione è che sia ancora più buona e con il rientro di Marcante non è detto che Siena non possa fare un ulteriore passo in avanti. Noi abbiamo dimostrato di poter vincere contro qualunque squadra in questo campionato, quando abbiamo perso abbiamo perso di misura, non so chi fra Ferentino e Palestrina sarà il nostro avversario perché giocano domani. Ad ogni modo non ho preferenze e credo che saranno comunque degli avversari difficilissimi che ci capitano in un momento non facile per noi. Noi speriamo in questi giorni di recuperare da un punto di vista fisico chi è molto stanco, alcuni di noi sono veramente stanchi e recuperare al meglio o al meglio possibile sia David Cournot che Rino Tomasiello perché oggi hanno dato tanto però camminando ancora, hanno recuperato appena appena l'acciacco e speriamo di migliorare la condizione con il loro recupero e dietro a questo un reinserimento di Marcante che finalmente finisce la sua pena e credo che possiamo giocarci alla pari con chiunque anche se saranno ovviamente squadre difficili ma penso che con questo orgoglio, con questa voglia di vincere, con questa mentalità penso che possiamo fare qualcosa.